La presentosa viene da una parola che è la presentenza, cioè la presentazione della ragazza fidanzata al gruppo sociale. Era un ciondolo con un simbolo solare che racchiudeva due cuori, con spesso una mezzaluna, ma poteva anche essere un cuore, o due cuori semplici, che appunto rappresentava il nuovo stato della ragazza, promessa. D'Annunzio ci codifica il nome dialettale presentosa nel suo romanzo, nella sua opera Il trionfo della morte, 1894. Simbolo di sole, quindi fertilità, salute, prosperità, e dentro questo sole, che è contornato poi tutto di filigrana, perché la filigrana era l'oro dei poveri, l'oro veniva venduto a peso, quindi la filigrana consentiva di ottenere dei gioielli decorativamente bellissimi, ma dal poco peso, e quindi potevano essere a pannaggio anche delle classi meno abbienti. Al centro aveva appunto un cuore, due cuori, due cuori, uniti da un crescente lunare, come quello che ci riscrive Gabriele D'Annunzio, al petto di candia del trionfo della morte, perché questo crescente lunare è la rappresentazione dell'amore fertile, come la luna crescente, quindi il nostro amore che cresce fecondo e fertile. La presentosa è un gioiello settecentesco, che nasce con molta probabilità dalle mie ricerche, nasce nel territorio dell'Alta Frentania, quindi Agnone, che fino al 1811 era Abruzzo, poi è passata sotto il tenimento di Molisano, e Agnone, Pesco Costanzo, paese di antica produzione, rinomate orifecerie, Sulmona, Guardia Grele, dove abbiamo ritrovato i nostri roggiti, e tutto il territorio, come vi dicevo, l'Aquila, Scanno, fa la presentosa in filigrana, soltanto nei primi del Novecento, e ad opera appunto dell'orafo, che aveva una grande bottega, Armando di Rienzo, che rielabora questa presentosa in filigrana.